Musica Benvenuti a tutti, siamo qui da DJPR98 con credo il quarto checkpoint quindi diciamo che la situazione, il gioco si fa più difficile adesso dobbiamo sopravvivere all'assedio, quindi quando seleziono riprendi ci sarà un'assedio di zombie che mi verrà addosso quindi diciamo non è tanto invitante iniziamo, non è sicuro che riesco a vincerlo l'assedio allora, ho scritto sopravvivi all'assedio ma io non ve lo nessuno non ve lo nessuno eh, compatti sì, la mia curiosità è il sapore, quanti si ho ok, ok, io me la do a gambe ok dove chiede? dove chiediamo? basta che non mi impagno da dietro ehi ok, non mi ripara no, c'è il betto ce lo sento no, no, vengono così da lì, va, dai sì, 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 sì ho avuto il muro solo lo so mi sono venuto passante oh mio dio come stavolo il suono aspetta che risolto questo non lo avevo fatto si mi sono venuto si mi sono venuto mi sono venuto mi sono venuto oh oh mi sono venuto faccio lezioni che scorti male no non riesce mai questa ok ciao buongiorno buonasera oh a male c'è un altro no 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 per guarire per guarire per guarire il è il è colpo lì e facciamo scuola d'estaposta Ah, non si vado Quanti cavolo mi sono Cioè se non da bene non riesco a dare la razza Questa campagna è un po' piena Ok, buttato Stato Ah, no, buttato Dove sono? Stato 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 Avutatemi Hitler da parte mia Questo è il riso Quello giusto Ok, è proprio quella No Questo è il riso Questo è il riso Il riso Contro il riso No C'erano tutti i soldi precisi No 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 ci sono ci sono ci sono ma io non 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 sto usando la la moto non hai successo concluso di questo è ancora vivo non abbrate dimmi che sono Oh che munizioni, grazie oggetto che munizioni Ho sguidato un'arte di zombie di 3 km e grazie a te munizioni Alleluia, ragazzi ce l'ho fatto, sono arrivato al checkpoint Diciamo, ho terminato quasi tutte le mie munizioni Almeno sono riuscito a sopravvivere all'ogadito Ci vediamo la prossima settimana Alleluia, ragazzi, grazie a tutti